Cara mamma, caro papà, da grande voglio fare il pilota, il ricorre del desiderio irrefernabile di velocità che mi perseguita, l'odore delle gomme bruciate, dalla benzina, il sapore di che ha lavorato mesi e mesi, anni e anni, per arrivare al giorno fatidico, l'emozione di lasciarsi la mattina, di arrivare al circuito, vestirsi e rientrare nel proprio universo, un mondo che solo gli appassionati possono raggiungere, tutti i miei amici sognano soldi, famiglia, fortuna, ma io no, l'unica cosa che desidero è fare questo, perché? Perché sai molto di più che guidare una semplice auto, il lavoro dei meccanici per far andare anche solo di un soffio un'auto più veloce, ed entrare nell'abitacolo, allacciarsi le cinture, accendere il motore e, tutto ad un tratto, non senti più pressioni né critiche, siete solo te e la tua auto, un legame più che effettivo, e scendendo in pista, lottando, avanzando tra le colline, soffrendo, gioendo, ho la consapevolezza forse, che a meglio di così non potevo chiedere. E sono due anni, Onation, che io e te ci siamo incontrati, la passione e lo spirito di tutti i piloti, di tutti i ragazzi che nonostante tutto, nonostante incidenti, problemi, si uniscono per due ore alla settimana per condividere la stessa passione che io vi sto descrivendo. Dopo tutto questo tempo, mamma e papà, magari il mio sogno non si potrà più avverare, ma almeno, grazie a te, Onation, ho trovato lo stesso angolo dove posso vivere della mia passione. E come l'alba sarei su questo mare, così il nostro sito sta crescendo, sperando, però, che mai arriverà il tramonto. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.